è arrivato un nuovo mister, è arrivata questa fatidica anima del Napoli, si è vista contro Bologna anche se domenica ci sarà il primo vero test, quello della trasferta a Firenze Sì, infatti è proprio lì che bisogna trovare il sistema per cambiare il corso degli eventi perché il Napoli di Donadoni ha peccato soprattutto nelle partite esterne, ha dimostrato scarso carattere, scarsa determinazione, deve cambiare, cambierà perché con Mazzarri lo sapevamo e c'è stato anche il riscontro, si può pensare a qualcosa di diverso, ad una squadra che sia molto più combattiva perché al Napoli in fondo è mancato soprattutto questo Ecco, squadra combattiva però si è parlato molto spesso con Mazzarri di questo fatidico modulo lui continua ovviamente a sottolineare, non è importante lo schema in sé, l'importante sono i movimenti e l'importante sono i tempi di gioco, credi però che arriverà il fatidico 4-4-2, 4-3-3 o comunque lui invece darà una nuova versione del 3-5-2? Io credo che continuerà con il 3-5-2 però nel caso può tramutarsi in un 3-4-3 questo sì perché lo ha già provato domenica, con i calciatori che ci sono non può fare diversamente poi a gennaio quando ci sarà qualche rinforzo che sicuramente arriverà può darsi che si ipotizzi una soluzione alternativa però finora credo che lavorerà sul 3-5-2 anche perché non è che il 3-5-2 deve essere demonizzato, dipenderà come lo interpreti e poiché Mazzarri ha dimostrato con la Sampdoria di saperlo utilizzare al meglio anche in fase offensiva allora è giusto dare a Mazzarri il tempo per poterci lavorare Mi hai dato un assisto perfetto che è quello del mercato, dei rinforzi di gennaio probabilmente ci saranno, si parla tanto di Toni, si è parlato addirittura di Oddo che si parla in rottura col Milan nomi fattibili o sono insomma le solite voci? Io credo che si tratti di voci per il momento perché sui calciatori da prendere ci sarà una discussione da effettuare e soprattutto bisogna attendere l'arrivo del nuovo direttore generale quando sarà completata la composizione del club per intero io credo che a quel punto verranno fuori i nomi però sì, hai fatto due nomi importanti che magari arrivassero E battuta veloce chi sarà il direttore generale? Bisogna chiederlo a De Laurentiis quando deciderà di farcelo sapere però per il momento io credo che il presidente abbia imboccato la strada giusta quindi sa cosa fare e io sono fiducioso